calciopoli è una ferita sempre aperta sempre piena di rabbia di vergogna calciopoli o ribattenziata a farciopoli proprio perché fu una farsa ha rappresentato come io ho dissi in un convigno alla mezza terme uno dei momenti più vergognoso dello storio dell'umanità seconda solo all'ingiusta crocifissione di cristo c'era anche moggi quando io lo dissi in quella sede una situazione molto particolare che in me suscita sempre particolari sentimenti di odio purtroppo lo ammetto nei confronti di chi generò quella vergognosa pagina di storia a nostro avviso irripetibile perché fecero una cosa spudorata schifosa vergognosa fu una pagina nera per le procure fu una pagina nera per gli inquirenti il colonnello auricchio cosa non con non combinò molti mi dicono e mi chiedono chi organizzò calciopoli calciopoli fu organizzata a tavolino da tre persone che si siedettero a tavolino da tre persone che si siedettero a tavolino e non temo smentita calciopoli fu organizzata da moratti dal colonnello auricchio e da baldini si avete capito bene tre persone che si siedettero a tavolino e organizzarono il tutto moratti con la forza della sponsor la team dell'inter a auricchio con la forza della gestione delle intercettazioni baldini fu colui che ebbe l'incarico dei tre di contattare le procure far arrivare loro notizie attraverso il romanista un giornale di roma che mandarono alla procura di torino proprio guariniello le archiviò e allora si inserì napoli attraverso una inchiesta lontana di calcio scommesse in cui la juventus non c'entrava di riorganizzare le intercettazioni e vi dico anche una data una data molto particolare sapete quando si è dimesso moratti dall'inter il giorno in cui sono cominciate le intercettazioni e nominò facchetti presidente il giorno in cui finirono la intercettazione si dimise facchetti e rientrò moratti questa fu la genesi di calciopoli poi è venuto tutto il resto poi hanno trovato via libera nella guerra di famiglia tra gli elkan e la triede hanno trovato sfondo nella complicità di galliani hanno trovato via libera attraverso la stampa perché se si vanno a valutare le intercettazioni fatte nel complesso tutto il sistema che la stampa definiva sistema moggi ma era un sistema di difesa quello di moggi tutto il sistema pilotava lo scudetto verso il milano si vince chiaramente dalle intercettazioni questo per dire in generale cosa successe in calciopoli attraverso attraverso attenzione non sfuga questo le intercettazioni abusive senza essere ordinate dalle procure la team che aveva in mano in italia attraverso telecom il sistema dell'intercettazione faceva intercettare tutti quanti abusivamente senza un ordine di una procura e quindi faceva spionaggio e ne passava alla procura di torino che respinse e alla procura di napoli e hanno agito con intercettazioni abusive non ordinate da nessuna procura e da nessun tribunale guardate quello che è stato fatto a calciopoli di una gravità assoluta ora si ritorna a parlare di calciopoli la chiavetta di moggi report piano piano verranno fuori delle situazioni ultimamente la questione di cellino ma calciopoli non fu altro che un'invenzione di tre farabutti io ero in aula quando ci fu l'interrogatorio e il controinterrogatorio del colonner Lauricchio guardate se ve lo andate a rivedere nei report di Juventino Vero è inimmaginabile come apertamente era in difficoltà balbettava Auricchio perché aveva la coscienza sporca quando il controinterrogatorio di Auricchio veniva affrontato io non l'ho visto mai ma come faceva quello a fare il colonnello dei carabinieri mentiva sapendo di mentire era chiaramente in difficoltà sull'evidenza sarebbe bello vedere tutte le udienze di calciopoli se voi vedete le udienze di calciopoli io ero lì dentro ad assistere se voi valutate quella posizione vi rendete conto che la Juventus che Moggi Giraudo e compagnia bella non erano altro che delle vittime io difficilmente ci voglio tornare su calciopoli perché per me è una ferita apertissima è un atto di una gravità enorme ecco perché poi il karma ha fatto arrivare a nove scudetti consecutivi cioè perché davvero c'è stata la mano di Dio perché il risarcimento divino sono stati nove scudetti consecutivi vi cito solo due capi di imputazione poi chiudo immaginate cosa successe interlocato Zamparini al quale il pubblico ministero chiedeva lei era il presidente del Palermo? sì si riteneva defraudato dagli arbitraggi? sì e cosa fece? Zamparini disse telefonai a Moggi sapevo che lui aveva dei buoni uffici con la Lega con la FIGC e gli chiesi mandatemi un arbitro bravo non un arbitro che mi faccia vincere disse Zamparini ma un arbitro bravo e allora il pubblico ministero disse perché proprio a Moggi questa cosa le ripeto disse Zamparini perché Moggi aveva delle conoscenze disse Darducci come mai lei poi non protestò non protestai perché mi mandarono Rizzoli che in quel momento era il migliore quindi Moggi aveva lavorato bene dice il pubblico ministero accusatore sì disse Zamparini nell'interrogatorio degli avvocati di Moggi gli fu chiesto a Zamparini senta Presidente lei quando ha telefonato a Moggi per avere un arbitro all'altezza della situazione il venerdì mattina e chi era l'arbitro? Rizzoli disse l'avvocato di Moggi le lettere fatte il venerdì mattina sa che il giovedì avevano fatto il sorteggio arbitrale quindi immaginate cioè Moggi l'aveva perculato al telefono avete detto vabbè ti mando Rizzoli quello già era stato avevano già fatto il processo scusate il sorteggio il giovedì mattina come può tu chiami il venerdì non sai manco che sono stati fatti i sorteggi questo era uno dei capi di imputazione di Moggi altro capo di imputazione muore il Papa Voitila il 2 aprile del 2005 erano sotto intercettazione spionaggio esce la telefonata che il ministro Pisano all'epoca governo Berlusconi chiama Moggi e dice secondo te che dobbiamo fare? Moggi fra l'altro è di Monticiano lo stesso paese della moglie di Pisano che dobbiamo fare? Moggi rispose secondo me dobbiamo giocare tutte quante perché le società sono tutte quante già sul posto capo di imputazione la difesa di Moggi scopre invece che le partite erano state rinviate Moggi invece aveva detto che secondo lui si doveva giocare perché c'è una telefonata di Galliani a Pisano dove dice dovete rinviarle le partite perché io ci ho squalificato lui Costa e Maldini e devo giocare con la Fiorentina questo era il capo di imputazione di Moggi questa era Calciopoli cari amici io ho portato un esempio le altre cose non c'è nulla perché se ci fosse stato una sola un solo reato sarebbe emerso e sarebbe stato un tantam mondiale perciò Calciopoli Farsopoli fu davvero un agguato un agguato mafioso alla Juventus un agguato vergognoso scandaloso architettato a tavolino da Auricchio colonnello dei carabinieri mi venissero a smentire da Moratti e da Baldini mi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vesicchi ad attivare la campanella delle notifiche e a mettere un commento se lo ritenete opportuno alla prossima grazie 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 grazie